avanti gol, obbedisci voglio combattere, io devo vendicare il mio amico junior andatene subito, è me che vuole, non voi se restate qui farete la stessa fine non possiamo farlo, io rimango papà sei un illuso, che cosa ti fa pensare che li lascerò andare via? io vi voglio eliminare tutti quanti sei così ridicolo, moscerino stai attento smettila, lascialo in pace poco aiuto oh no che cosa è successo, Recaio? abbiamo perso anche Krillin e adesso tocca a Temo, Giosetto tu la pagherai per il male che hai fatto grazie 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 non avresti dovuto è stato un errore No, no, no. Cosa? Gohan, torna immediatamente sulla terra e porta con te Junior. Io sento che c'è ancora vita, Ian. Non devi andartene da questo pianeta prima che sia troppo tardi. È un ordine, Gohan. Sì. E sono i due.